Se dà il bonus adesso faccio la rapina Oh Dio stava lì Oh incredibile amici Tocca a fare la rapina per fu... Andiamo a fare la slot di Popeye Vediamo un po' come sta stasera Ma la madama proprio stasera Dante fai la build coin Ti dico crashi Buonasera Andiamo qua E capiamo un attimo Amici prossimo step 300 likes stasera Mi raccomandolo Oggi no che look Guru Buonasera Chissà se riusciamo a risculare il bonus A me non dispiace questa raga Vi dirò Vi dirò Vi dirò Robi dei banna Mario e sono troppo su di giri Qual è l'altra grattini Simone Quarta? Ne ha messo manco uno Ma che questa stasera Ma che questa stasera Ma che... Non la vedo per la quale Non la vedo per la quale Non ricordo il nome la gioca Luke Come si chiama l'altro grattino? Ho capito quale dice Christian Serrafino Buonasera Iliana che c'ha Mario stasera che è così eucorico ha vinto il Super Adotto Mario saluto Tommaso non l'hai visto è ciecato Roberto ha vinto il Milan Esatto Dai butta lì dentro Prosti pistoleri Ma insistisci Ehi Insistiscili Mettine un altro laggiù Quello con i bambù La big bambù No Qua'era? La train? No Per garanteria sarebbe il male Signore Ma perché le slot con i? Non le fa mai nessuno Sono soltanto bellissime Tipo quella è la tua preferita Quando fa la 50enne spin Poi semmai la molliamo Vogliamo fare la loti La mia preferita Esatto Non paga neanche Sotto tortura Quelle tipo egiziane Ma tipo la legacy Ho la book of dead Quale? Non la book of fra Andiamo a fare la loti Raga Quello dico io Facciamo così Dai che questo è il boss Raga Dai che lei stava lì Con il maledetto Ma va a cacare Fai schifo Fai Big Bamboo Eh La storia era Big Bamboo Cile pieno di zucchero Io non c'è la vostra Zitte zitte Stanno Armagnando Rimangiamo Dai mettilo dentro Su Ora o mai più Oh brava Ragazzi Non litigate Oh quanto ha pagato Questi Zitte zitte Facciamo la rapina Siamo tutti contenti Se da il bonus Adesso faccio la rapina Oddio stavo Incredibile Amici Amici Le parole Sono uomo di parola Fai la rapina Per forza Eh Ma paga anche 2000 euro Magari Fai schifo Una cosa guida per 10 Almeno L'ho detto L'ho detto L'ho detto L'ho detto L'ho detto Ci mi devi pagare Non fa come l'altra volta Dai Mi fai schifo Fai Ma va Cagata Fanne una Almeno Per dire Mi devi pagare Che schifo Ragazzi Zero euro Zero euro E' una Basta Ma no Ragazzi Amici Ma che cos'è Questa sera Che cos'è Questa sera Amici Che cos'è Questa sera Siamo tornati O non siamo tornati 50 euro C'è l'ultimo giro Un po' potrebbe mettere un altro bonus Saremo per 20 Siamo tutti a posto Un suo cuore Eh dai Portiamo a casa Amici Andiamo a fare La rapina Finalmente Amici Finalmente Finalmente Eccoci qua Tac Tac Vediamo un po' Vediamo un po' Possiamo mettere la pet 6 Facciamo intanto una cinquantina Rosalia Russo Buonasera Ben arrivata Eforia stupenda Buonasera Rosalia Grazie per il like Io invece ho sempre pensato Che Zebedeos Fara giocata Solo Desplicitamente Spinandola E ultimamente Amici Secondo me Abbastanza da giù Visto come sta girando A me almeno Poi per carità L'ultima volta Abbiamo fatto Quel bonus da 500 Eccetera E poi l'ha bannata vita E abbiamo fatto Quel bonus da 500 Che ha pagato Ma è più unico che raro Raga Quella volta Che ho fatto il misclick Non so che ci stava Ho preso un bonus da 2000 Mi è zato male Almeno due anni Di essere bannato Quindi Capiamo Capiamo Tanto amici Vi rinnovo Perché magari qualcuno È appena entrato Di assolutamente Amici Non perdetevi Il canale Merlin and Friends Il nuovo canale di Merlino Dove escono i video Tutti i giorni Dove escono le repliche Del live Dove lo stesso Merlino Era in live oggi Quindi Se ve lo foste persi È perché non siete iscritti Non avete attivato la campanella Amici Mi raccomando Mi raccomandolo Inite a supportarci Non solo con i like Qui Ma anche con i like Sui video Toccava chiamarla Zebra Amici e amiche Saldo Grazie Popai Del Quality check Mi sposto subito Mi sposto Subito Dove sto Eccolo Eccolo Buttalo dentro Buttalo dentro Il bonus Dai che ce n'hai due Buttalo dentro Non fare la cessa Non fare la cessa Stava là Siamo persi L'occasione Forza bot Ci metti tre ore Per riuscire Mo ti banno Siamo arrivati a 100 likes Amici Prossimo step 150 Ah ce la fate Oh 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 Occhi buttati Amici Occhi buttati Occhi buttati Oh Finalmente Dante Dove andrai Io ti auguro di trovare Una bella fidanzata Perché trovate Sei una bella persona Grazie Troppo gentile Antonietta Veramente Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Il bonus Adesso butta dentro Qualcosa di serio Perché Ce lo meritiamo Ce lo meritiamo Buonasera Roberto Farris Ben arrivato Buonasera Steven Buonasera Buonasera Sarebbe stato Succulento Amici 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 10 A 4 spin A 4 spin Giusto Cappello Comentiamo Comunque 700 eurini La cacati 700 eurini La cacati E io direi Che è arrivato A 5 spin A 6 spin Succulento Succulento A 6 spin A 7 spin A 9 spin A 9 spin A 7 spin